ciao a tutti sono tommy dell'olio come sempre vi do il benvenuto per questo nuovo mixing trick e ovviamente vi do il benvenuto nel mio studio nella mia regia di mix oggi parleremo beh come dice il titolo di exciter in molti banda ma in sostanza parliamo di voce parliamo di eq vocale perché è lì che andremo ad utilizzare l'exciter e io adesso vi dico la cosa più banale del mondo per noi fonici di mix ma più vera del mondo la voce la cosa più importante che c'è se voi sbagliate la voce avete toppato il mix qualunque cliente di qualunque genere vi farà una serie di richieste ma ce ne sarà sempre una alla quale non potrete venire meno le voci devono essere perfette se il mix suona bene se si vuole un buon mix viceversa voi potete fare tutto quello che volete può esserci la sezione ritmica le chitarre i synth l'immagine stereo la pressione sonora più bella che volete ma se la voce non è a posto il vostro mix non sarà mai gradito dal vostro cliente e qui il problema io su questa cosa mi non mi scontro ma mi confronto molto con i miei allievi come saprete molti di voi io faccio moltissima didattica e per chi non lo sa mi permetto di ricordarlo oltre ai programmi che ho già in vendita ai video corsi di mix che potete trovare online io prevalentemente e soprattutto ho dei programmi di coaching di mix di corsi di mix individuali seguo molte persone attraverso programmi personalizzati vengo al punto inizialmente quasi tutti i miei allievi ma io stesso durante i miei anni di formazione pensavo che il fatto di avere un mix che suonasse forte come riferimenti che avesse una proporzione per quanto riguardava le frequenze e gli strumenti molto simili agli riferimenti quindi la reference track che adoro ha una batteria che ha una determinata pressione sonora determinato volume percepito ce lo deve avere anche la mia la voce la sento ad un determinato livello all'interno del mix anche la mia deve essere così ecco su tutte queste cose sono vere ma in realtà la cosa più importante non è nessuna di queste perché quando si lavora in ambito professionale tutte queste cose vengono date per scontato voi non potete dire sentite il mio mix come bello come suona forte come la voce è bella definita all'interno di una musica che preme forte tante basse tante alte immagini esterne voi non potete giocare la così perché queste cose le hanno tutti i mix le fanno tutti i fonici non vengono date per scontate è come se io da musicista dicessi ragazzi sentite come sono bravo sono perfettamente intonate perfettamente a tempo e grazie al cavolo mi sembra il minimo vengo al punto qual è quindi la cosa importante in mix in generale nella musica è la coerenza timbrica secondo me io di questa cosa sono convinto ed è la coerenza timbrica quindi oltre a un certo livello tutti i mix suonano forti tutte un'immagine stereo perfetta tutti hanno una distribuzione di frequenze perfetta tutti hanno un balance fra i vari strumenti perfetto tutto perfetto però dove si gioca la differenza sul timbro due voci in due mix diversi entrambe si sentono perfettamente entrambe si incastrano perfettamente nella base musicale ma una ha un timbro più naturale dell'altra una sembra che sia il cantante qua davanti a noi che sta cantando l'altra si sente che è equalizzata entrambe magari hanno le s perfettamente sotto controllo ma una si sente si sente proprio che nella pronuncia c'è qualcosa di strano perché l'azione del di essa diventa invasiva e non è più naturale ecco su queste cose secondo me si gioca veramente oltre un certo livello si gioca la differenza tra un mix superiore e uno inferiore di qualità quindi perché vi sto dicendo tutto questo esattamente perché il modo gli strumenti le tecniche che voi avete per equalizzare la voce sono fondamentali la voce è la cosa più importante come abbiamo già detto l'equalizzazione di uno strumento quindi in questo caso anche della voce è sempre uno dei processi più importanti e quindi l'idea di io ho la mia come dire il mio schema mentale la mia tecnica più o meno lavoro così le voci più o meno equalizzo così le voci benissimo ma le voci non sono tutte uguali incontreremo delle voci che hanno bisogno di equalizzazione incontreremo delle voci che hanno bisogno di saturazione e incontreremo delle voci più chiare delle voci più scure quindi i trattamenti i dosaggi anche saranno diversi incontreremo delle voci che con un exciter magari anziché con un equalizzatore o anziché con un qualunque saturatore riusciranno ad ottenere quel timbro quindi quella sufficiente quantità di top end che le porterà a suonare da disco finito quindi quello che sto per farvi vedere è una tecnica che chiaramente non ho inventato io che moltissimi fonici utilizzano e che in moltissimi dischi sentite mi viene in mente un po' il timbro delle voci di ariana grande ecco super giù io credo che siano fatte con questa tecnica perché ci andiamo molto vicino come timbro ecco quello che volevo dirvi è adesso ci spostiamo ovviamente sul protus ma l'exciter utilizzato in molti banda è un ottimo strumento per schiarire le voci e quindi un'ottima alternativa alle tecniche che già utilizzate nel mio caso l'ecutra addizionale la saturazione io lavoro molto anche con il satur ecco questa tecnica che sto per farvi vedere secondo me è sicuramente una delle tre quattro io in un video passato qualche mese fa vi avevo fatto vedere anche le voci fatte col mago ecco sono tutte strategie da mettere sullo stesso piano da conoscere bene da avere tutte pronte di modo che quando vi arriva il mix dite ok questo sì no no sì ok è lui le vostre 3 4 5 tecniche preferite che producono sonorità diverse e che trattasi di vedere di volta in volta quale si sposa con la voce che in quel momento state mixando beh ho parlato troppo direi spostiamoci sul protus cominciamo a lavorare insieme vi faccio vedere tutto benissimo eccoci qua davanti al protus allora qui abbiamo una situazione di partenza molto molto easy semplice tre plugin e al resto ce lo vediamo e lo facciamo direttamente insieme abbiamo una voce un pizzico di compressione un locato basta da qui noi partiamo allora io ho lasciato un equalizzatore high shelf già regolato in linea di massa comunque adesso rimettiamo un attimo in discussione per avere un minimo di termine di paragone e direi prepariamoci anche un altro plugin visto anche quello che di cui abbiamo discusso lo scorso mese ci prepariamo un piccolo saturatore multibanda per avere tutte le opzioni di dire di tutte le possibilità diciamo di schiarita e poi andiamo ad aprire invece il plugin che è quello che ci interessa e che è il focus del nostro video di oggi che è questo allora io vado ad aprire il modulo di exciter e vado a fare questa cosa allora il modulo di exciter come quasi tutto in ozone e in multibanda quindi vado ad aprire ok spegniamo tutte le bande ok tranne quella che sta qua all'acuto vedete che io adesso di attiva ho solo la banda che va da questa linea che vedete verticale in poi vasso destra quindi diciamo che mi vado a lavorare solo sulle alte frequenze in realtà poi detto sinceramente per chi ha già visto i miei video vado a fare un lavoro molto simile a quello che mi avete già visto fare con il saturn la differenza in questo caso sta nel plugin questo è un exciter non è un saturatore è molto sottile però il colore è diverso insomma è questa cosa la cosa interessante allora vado a selezionare l'algoritmo retro da un amount importante mix al cento per cento quindi non c'è processing in parallelo per ora poi magari andiamo a vederlo insieme e vado a regolare la mia voce sentite cosa succede and you're building us a shelter against the weather and it's enough molto molto bello regoliamo anche gli altri così facciamo un po di a b ci divertiamo and you're building us a shelter against the weather and it's enough and you're building us a shelter against the weather and it's enough and you're building us a shelter against the weather and it's enough ok facciamo un po di a b partiamo prima pro q3 poi saturn poi ozone and you're building us a shelter against the weather and it's enough and you're building us a shelter against the weather and it's enough and you're building us a shelter against the weather and it's enough and you're building us a shelter against the weather and it's enough and you're building us a shelter against the weather and it's enough and you're building us a shelter against the weather and it's enough Quanto io vada, in questo caso secondo me siamo a 7 dB e mezzo di high shelf, io comincio a sentire che sta andando qualcosa, sta andando probabilmente qui, in questa zona di medio alto, sta andando un po' in compressione, però ecco quello che voglio dirvi è che per tanto che io spinga con l'equalizzatore, andando anche un po' fuori i giri in questo caso, ma comunque non riesco mai ad avere quell'aria che mi dà l'exciter. Sono simili, schiariscono tutti e due, funzionano bene tutti e due, tutti e tre in realtà, diciamo che nello specifico di questa voce forse dei tre questo è quello che mi piace di meno, però funzionano bene tutti e tre. L'exciter, che è un po' il focus del nostro video di oggi, è quello che più di tutti, più di tutti, secondo me riesce a restituire quel frizzante, mi viene in mente Ariana Grande, quando ascolto quel tipo di produzione, in quel tipo di voci molto ariose, molto chiare, poi si crea proprio anche stilisticamente quel contrasto tra la base ritmica che magari è un po' rap, anzi fosse un po' trap, quindi 808 a manetta, quindi molto molto grossa come low end e che fa da contrasto con la voce di Ariana Grande, mi viene in mente lei, ma come lei ce ne sono tante, che hanno proprio quella roba lino, quella brillantezza in alto, ecco secondo me l'exciter è perfetto per andare a creare quel tipo di sonorità, proviamo a ascoltare ancora. E' proprio sulle altissime, sugli 8, sui 10.000, perché sono molto simili, sono chiari tutti e due, funzionano tutti e due, ci possiamo fare un mix perfetto con tutti e due, però questo mi dà proprio quel suono lì. E come avete visto, è anche molto semplice da usare, da regolare, è efficacissimo e comodissimo, multibanda, apro una sola banda, scelgo l'algoritmo retro, poi ovviamente provateli tutti, vedete voi quello che vi piace, ovviamente vi consiglio al retro, è il mio preferito, e basta, decidete quanto volete schiarire e se volete, ovviamente il mix è inteso come se non siamo al 100%, siamo al 90%, quindi andiamo a schiarire molto, questa cosa è importante, però il concetto è che io vado a, con questo plugin qua, in un attimo, a dare quella curva di equalizzazione da disco, e secondo me è più semplice e meno passibile di errore di un equalizzatore, è più difficile che voi regoliate male sta roba qui rispetto a un equalizzatore. Questa cosa qua secondo me è interessante, poi come sempre, un po' come vi dicevo il mese scorso, quando abbiamo chiacchierato riguardo alla comparativa fra high shelf e saturazione in multibanda, quindi ok, io una traccia la devo schiarire, la posso schiarire con la saturazione, la posso schiarire con l'equalizzazione. Il senso ovviamente di quel video come di questo video non è dirvi ragazzi usate questo che è meglio di quest'altro, ma assolutamente no, sono tutti efficaci, funzionano tutti bene, ma ciascuno di questi ha la propria identità sonora. Quindi la cosa interessante è proprio quella di avere, anche perché io non so come mixate voi ovviamente, ma se penso alla mia esperienza diretta, quindi a come mixo io, alla mia pratica quotidiana, e poi facendo tanta didattica, anche relazionandomi con tante persone, vedo che, insomma, in mix l'equalizzatore, questo volevo dirvi, è usato molto più spesso per schiarire che non per bustare sotto o bustare sulle medie. Lasciamo perdere l'equalizzazione sottrattiva, che quella esiste, è importantissima, ed è un'altra questione. Ma quando io vado a dare con l'equalizzazione, vado a bustare con l'equalizzazione, è più facile, è più frequente, a livello proprio numerico, di traccia all'interno della mia sessione, che io abbia la necessità di schiarire, che non abbia la necessità di gonfiare sotto, o che abbia la necessità di bustare le medie. Quindi questo cosa vuol dire? Beh, viene da sé che avere due, tre colori, nel vostro arsenale, diversi, per andare a schiarire, avere diverse tecniche per schiarire, è ovviamente utilissimo e fa la differenza, soprattutto sulla voce, che comunque in qualunque genere rimane la traccia più importante. Se voi toppate la voce, avete toppato il mix, e questo lo sappiamo tutti. Quindi, questo tipo di tool, secondo me, pensando, io ovviamente lo contestualizzo anche al tipo di voce, a parte che non è una questione di genere, si può fare dappertutto, ma lo contestualizzo anche al tipo di voce inelenti al genere, in cui io mixo prevalentemente. Io vi ho fatto l'esempio di Ariana Grande, io lavoro su una musica che è abbastanza simile a quella, quella roba lì, sostanzialmente, quello che io chiamo modern pop. Questo tipo di colore è molto utilizzato. Il fatto di lavorare in multibanda, con degli exciter, è una cosa che si sente molto, ripeto. Io, pur non sapendo minimamente come mixa, per esempio, Sarban Ghenia, però quando, per tentativi, vado a provare differenti tipi di processi, mi rendo conto che l'exciter si avvicina molto a quel tipo di colore. Quindi, vi consiglio di tenerlo in debita e seria considerazione, quando dovete schiarire una voce. Anche perché, oltretutto, è molto, secondo me, anche rispettoso in termini di S. Forse, mi spiego meglio, rispetto a un equalizzatore tradizionale, lui vi, schiarendo la voce aumentano le S, no? Lui ve le fa aumentare un pochettino di meno. E anche questa cosa qua è comoda, contemporaneamente non è, sentite, vi faccio sentire l'ultimo B fra Ozone e Saturn. And you're building us a shelter Against the weather and it's enough And you're building us a shelter Against the weather and it's enough And you're building us a shelter E' più scuro, cioè non ce n'è il Saturn, come anche l'Hyself, risultano entrambi un pizzico, tutti e due schiariscono, se io parto dal flat e metto il Saturn dico che bello se schiarita, ma quando faccio invece il paragone all'opposto, cioè arrivando dallo zone passo a un'altra delle due opzioni, la voce risulta meno ariosa, meno fresca in alto. E quella cosa lì secondo me, ripeto, è molto utilizzata, questo l'abbiamo già detto, ma quello che è più importante è un colore da avere, quindi è una tecnica da utilizzare e come avete visto, semplicissimo, veramente semplicissimo, con questo plugin, due slider e siete praticamente operativi. Quindi io mi fermo qua, vi invito a sperimentare questa tecnica sulle vostre voci, a integrare questa tecnica all'interno, volevo dire, delle vostre chain vocali e poi mi farete sapere. Intanto, come sempre, vi auguro buon mix e ci vediamo il prossimo mese. Ciao a tutti! Ciao a tutti!